Sono entrato lavorando in officina, poi col tempo sono passato il magazzino e adesso mi occupo di questi temi all'interno dell'organizzazione. Gestione degli aspetti di sicurezza all'interno dell'azienda, che come sappiamo ovviamente hanno un impatto abbastanza importante, e tutti quelli che sono i regolamenti ambientali, quindi mi occupo di tutta questa sfera qui. Mi chiamo Giovanni Bombardini, lavoro in DM da 24 anni e mi occupo di qualità, sicurezza e ambiente. Le sfide principali che risolve ogni giorno, comunque che devo affrontare ogni giorno, sono legate appunto ai mutamenti, che sono i cantieri piuttosto che a macchine diverse che produciamo all'interno dell'azienda, quindi rischi diversi, piuttosto che personale neoassunto, che quindi ha la necessità di imparare un'attività e di conseguenza anche le nostre procedure, proprio per evitare che si possa far male. Poi i cambiamenti delle normative, delle leggi e quant'altro, dobbiamo valutare anche quelli perché appunto la nostra azienda comunque un impatto ce l'ha sull'ambiente e dobbiamo cercare di gestire la mente. Le competenze che sto utilizzando nella mia attività sono legate a assorbire leggi direttive europee, sempre in tema di sicurezza e di ambiente. E per il futuro diciamo che il fatto di rimanere aggiornato su questi temi che stanno cambiando continuamente è la sfida principale nella mia attività, oltre che cercare di migliorare appunto questi aspetti all'interno della nostra organizzazione, quindi avere condizioni di sicurezza migliori e cercare delle tecnologie che ci consentono di avere un impatto minore nell'ambiente. In generale l'ambiente aziendale è familiare, nonostante negli anni l'azienda sia cresciuta in termini di fatturato, di personale, comunque si è mantenuto un approccio di tipo familiare e questo ci consente di lavorare in maniera più serena, più tranquilla e di avere di conseguenza un rapporto con i colleghi migliore.